Quando parliamo di Open Science, non in Italia, nel mondo, in realtà parliamo di una scienziata italiana, molto più giovane in Italia che è un Taccini, che è qui con noi, Ilaria Capua. Ilaria, benvenuta. Prego, se vuoi... Se vuoi... No, io solo. Tu sì, io non ho una storia da raccontare, tu sì. Io ti posso fare delle domande. Sul Trespolo. Se vuoi, anche in piedi. Sul Trespolo. Allora, io denuncio il fatto che sono professionalmente innamorato di Ilaria da tempo, l'ho seguita in tutte le sue avventure, l'ho raccontata, l'ho scritto di lei, sono felice che oggi sia venuta qui. Tanto presa da tanti altri impegni, perché purtroppo, ve lo posso dire, ha fatto l'errore di diventare parlamentare. Adesso, confessiamo. Ma guardate, che pasticcio che mi sono andata a mettere. Lei mi ha chiamato il giorno di Natale e mi ha detto mi hanno chiesto se mi cambi. Ho detto, beh, tu di no, nella vita devi vincere il Nobel, non devi andare in Parlamento. Lei in realtà ha pensato che in questa fase della vita fosse importante farlo. Passo indietro. Parliamo di Open Science. Mi mandate la prima foto? Che cosa hai fatto e che cos'è l'Open Science per te e che cosa ti ha pensato nella vita? Questo qua è la storia dell'aviaria. Raccontiamola. Allora, quella diapositiva di prima era il mio gruppetto di ricercatori nel 2000. Io sono arrivata a Padova nel 98 e mi sono trovata subito, proprio senza alcun preavviso, a gestire un'epidemia di influenza aviaria che è stata una delle epidemie più grandi fino ad allora, più devastanti. E invece di dire ma noi non sappiamo come fare, non c'è nessuno neanche a cui chiedere, abbiamo cominciato a lavorare. E abbiamo, ci siamo creati una discreta rispettabilità nel nostro campo e piano piano, piano piano, siamo diventati degli interlocutori importanti. Nel 2006, quando l'influenza aviaria H5N1 era su tutte le televisioni e si vedevano questi con lo scafandro che non si avvicinavano a un pollo neanche con il rastrello, il mio laboratorio isolò per primo il ceppo di influenza aviaria africano, il primo virus africano. E a quel punto, mettiamo la seconda diapositiva, mi fu chiesto dall'OMS di depositare questa sequenza, quindi l'impronta digitale di questo virus che tutto il mondo voleva conoscere perché era una specie di tesoretto, non si sapeva questo virus come fosse arrivato in Africa con le persone, con gli animali, con gli aerei, eccetera, eccetera. Nel codice genetico ci sono poi tante risposte a queste domande. E quando mi fu chiesto Ilaria, ci dai la sequenza del virus che noi lo mettiamo in un database ad accesso limitato? Io gli dissi di no, vi pare una cosa logica? Siamo di fronte a una potenziale pandemia, bisogna che lavoriamo tutti insieme. E quindi con rispetto ed educazione dissi all'OMS no grazie e depositai la sequenza di questo virus in GenBank, che è una banca dati ad accesso aperto. e facendo questa operazione che io continuo a dire è stata un'operazione di buonsenso, non è che chissà, voglio dire. Però ha innescato una grande discussione mondiale. Ho innescato. Vediamo la prossima slide, vediamo se si vede un po' di quello che è successo. Questi sono i giornali del mondo che ne parlano, no? Su Wall Street Journal, New York Times, Washington Post. Questa del Wall Street Journal, io non leggo Wall Street Journal ovviamente perché mi occupo di altro, però siccome ero stata intervistata da uno del Wall Street Journal qualche giorno prima e stavo andando a Parigi all'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale a parlare di questa cosa, tiro su il Wall Street Journal che l'Air France all'epoca dava, così per vedere, vediamo un po'. No, due pagine sul Wall Street Journal con questo bel schizzo che mi fa le orecchie tipo Buddha, come potete vedere, proprio una cosa carina, con scritto scienziato italiano si ribella, si ribella contro il sistema. Senti, immagino l'attenzione dei giornali italiani in quei giorni. Così, così. No, prossima slide. La slide in quei giornali italiani non la mandiamo, era vuota. Ecco, e questo, diciamo, questo gesto ha, come diceva Riccardo, innescato poi un processo veramente democratico sulla rete dove tutti hanno detto ma no, ma lei c'ha ragione, ma come, ma c'è un'epidemia, ma non è possibile che queste informazioni siano gestite solo da un gruppetto ristretto di persone e quindi è cresciuta questo movimento e questo interesse verso una gestione più trasparente dei dati e sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale sia la FAO che anche si occupa di queste problematiche a livello internazionale ma l'OMS nel tempo devo dire questo è del 2011 hanno passato delle risoluzioni a favore di una gestione più trasparente dei dati che riguardano i virus emergenti perché alla fine la salute pubblica è la salute di tutti cioè non è solo la salute del paese che ha in quel momento il problema ma i virus viaggiano e non guardano in faccia a nessuno e quindi te li puoi ritrovare nel giardino di casa domattina e quindi non ha senso gestire le informazioni in maniera vediamo la prossima ce n'è un'altra sì perché poi alla fine che è successo che questa cosa ti ha dato una popolarità internazionale incredibile questa è Scientific American che ti sceglie fra i 50 migliori ricercatori dell'anno poi noi giornalisti quando arriviamo dopo magari a volte esageriamo anche succedono delle cose incredibili per aver fatto un atto di buonsenso e averlo fatto perché perché io sono un dipendente pubblico io lavoro per il servizio sanitario nazionale va bene e quindi io vengo il mio stipendio lo stipendio dei miei collaboratori arriva dai le vostre tasse e dalle tasse dei cittadini europei perché noi abbiamo progetti di ricerca europei eccetera eccetera allora per aver fatto una cosa ovvia che va nella direzione del io ci credo in quello che faccio perché io veramente ci credo io credo che quello che faccio sia importante non è che io sto lì a passare il tempo ti ritrovi a vincere dei premi ad ottenere dei riconoscimenti che insomma mi sembrano veramente sovradimensionati vediamo il prossimo il prossimo ancora più grande sì revolutionary mind revolutionary mind ma vi pare a voi una che ha fatto una cosa normale che cosa diventa revolutionary mind quindi voglio dire quello che mi fa riflettere sono quelle cose normali che a volte ci consentono di voltare pagine e iniziare un nuovo capitolo vediamo l'ultima credo che c'è un'altra slide ancora no questo è il premio che ho vinto l'anno scorso questo è il premio che ho vinto l'anno scorso che è il premio più importante che vi è in medicina veterinaria viene assegnato perché io sono un veterinario non si direbbe ma insomma anche se non ho mai curato un animale in vita mia sei un ricercatore veterinario sono un ricercatore veterinario e quel premio là viene dato a un veterinario al mondo che ha cambiato l'immagine della professione ed ha cambiato la vita degli altri anche lì e qui e sono stata la prima donna però la prima donna è la prima under 60 quindi per questo voglio un applauso è perché ci vuole la prima donna è una donna italiana e poi senti vogliamo alto sulla politica ma spiegami che cosa ci hai trovato nella politica io mi ricordo quando appunto tu me l'hai detto ma vai a vincere no fai la ricercatrice perché ti sei impegnata in questa cosa allora premetto che io sono quella con la giacca rossa sembra che siamo coetanei in questa foto allora perché l'ho fatto l'ho fatto perché il 6 gennaio in maniera del tutto in attesa mi ha chiamato Mario Monti e mi ha detto Ilaria anzi professoressa che io non sono professoressa però all'università di Glasgow lo sono in Italia no ma all'università di Glasgow sì io voglio cercare di mettere in campo delle persone che hanno diciamo fatto veramente qualcosa per questo paese che siano credibili a livello internazionale che siano delle persone che conoscono i meccanismi anche europei di alcune problematiche le chiedo di aiutarmi a fare qualcosa per questo paese io allora sinceramente io non mi sono mai occupata di politica mai avvicinato un politico in vita mia per militare neanche simpatizzante neanche sorridente niente però ho pensato in un momento come questo nel quale l'Italia ha bisogno di mettere in campo i suoi giocatori migliori è un po' come la nazionale di calcio noi mica mettiamo le casalinghe a giocare nella nazionale di calcio bisogna mettere in campo le nostre forze migliori mi viene chiesto Ilaria ti va di fare qualcosa per questo paese ti va di fare qualcosa per cercare di cambiare dei meccanismi che sono completamente incartati ingessati bloccati e allora io ho detto ma perché no insomma comunque c'è sempre da imparare con grande sincerità sono passati due mesi sei già pentita? ma allora pentita mi sembrava una parola troppo grande mi sento assolutamente smarrita perché poi mi sono trovata in questo diciamo confusione totale dove sono saltati molti riferimenti però i meccanismi poi sono sempre gli stessi e quindi è una situazione abbastanza anomala c'è un virus anche in Parlamento in questi giorni c'è un virus che è il virus del questo è il virus del Parlamento se ci fosse un virus l'avrebbe stesi tutti quanti tutti che si toccano tutti che si alitano in faccia senti Laria una cosa alla fine io spero che il tuo passaggio in Parlamento serva davvero a far avanzare l'open access l'open science anche con qualche cosa di un provvedimento di legge importante ti aspetti lo vuoi proporre ci hai pensato allora come spesso accade uno si ritrova con delle persone fantastiche che stanno accanto a te neanche te ne accorgi il mio secondo in lista circoscrizione Veneto 1 è Stefano Quintarelli che forse qualcuno di voi conoscerà tecnologo di livello notevole tecnologo loro mi hanno detto lui è colui che ha portato internet in Italia oddio ecco è stato ospite qui tra l'altro di World Wide Rome l'anno scorso su questo palco a raccontarci che la rete a Milano fisicamente l'ha costruita lui insieme a alcuni amici e allora con Stefano e anche devo dire su indicazione e sollecitazione di Riccardo abbiamo pensato di fare allora noi abbiamo un piano a breve termine perché dipende da quanto durerà la legislatura quindi bisogna fare presto bisogna fare presto un piano diciamo di mettere di preparare un articolo di legge per mettere chiedere anzi imporre a i principal investigator che ottengono finanziamenti dallo Stato per per svolgere delle ricerche di pubblicare i risultati delle ricerche in riviste open access intanto questo e questo è facile pure a costo zero un articolo è article 1 stiamo pensando a article 2 che però come ti muovi subito ti comincia a dire bisogna vedere article 2 riguarda sempre i progetti finanziati dallo Stato quindi il Ministero della Salute piuttosto che il MIUR di pubblicare il report dei progetti cioè alla fine del progetto tu devi scrivere un report perché a volte non tutti i progetti risultano in una pubblicazione allora pubblicare il report del progetto con il report finanziario che comunque deve essere presentato altrimenti tu non ottieni il finanziamento fa sì che uno anche i risultati negativi cioè non ti viene una cosa pure quello è un risultato e poi metterli sul web fa sì che magari li vede qualcuno e questo può essere positivo e può fare in modo che magari i progetti e questi report che sono scritti un po' magari vengono scritti un po' meglio quindi qua vediamo cosa succede facciamo una pagina facebook su questo articolo di legge vediamo se apriamo una discussione senti per chiudere il tuo grazie Rita il mio grazie Rita è un grazie allora innanzitutto io ho fatto ho deciso di fare la ricercatrice perché ho letto il suo libro quando c'avevo 18 anni sì sì quale libro era di tanti no scienza vita e avventura è quello di Dulbecco adesso sto facendo una figura pensi andremo a ricercare però va bene no dai Andrea l'elogio dell'imperfezione l'elogio dell'imperfezione questa vita mi ha affascinato la sua vita la fatica che ha fatto che sono andate in America con la nave non le facevano fare niente insomma la determinazione e poi devo dire che e questa è una caratteristica delle donne nella ricerca ovviamente lei era chiarissimo da questa intervista il fatto di non essere ricerca 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 ma essere una persona con la P maiuscola quindi che riconosce determinati aspetti della società che non vanno che riconosce l'importanza dell'arte l'importanza della bellezza l'importanza della condivisione dell'etica anche dell'etica una donna di quell'età che capisce così le implicazioni e le ramificazioni che può avere uno strumento come internet vuol dire che insomma ha una testa che è sfaccettata cioè la sua conoscenza le sue capacità e la sua intelligenza sono come un mazzo di fiori bene diciamo un bellissimo modo per finire in bocca al lupo e l'aria grazie 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 di essere stata con noi grazie sono nel Parlamento fatti valere ciao